ciao ragazzi bentrovati oggi vi presento il double muscle up un esercizio davvero molto molto avanzato alla sbarra in pratica una ripetizione di double muscle up si compone di due esercizi una trazione però un'esplosiva più un muscle up quindi questi due movimenti formano una ripetizione di double muscle up è davvero molto avanzato lo puoi usare per costruire delle routine avanzatissime alla sbarra un buon target di riferimento è arrivare ad eseguire 8 double muscle up quindi 16 movimenti totali davvero terrificante